Truffere anziani nel napoletano, pregiudicato finisce in manette, si tratta di RV di 41 anni residente a Napoli. L'uomo è accusato di truffa aggravata in due distinte occasioni ai danni di altrettanti anziani. Questa mattina gli agenti dei commissariati di Castellamare di Stabia e Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura. Le indagini relative al primo episodio sono state condotte dal personale della squadra investigativa Stabiese dopo la denuncia della vittima, un'anziana che aveva offerto agli inquirenti dettagli di rilievo per individuare il modus operandi del truffatore. La polizia è poi riuscita a risalire ad un'altra truffa che aveva avuto come sfortunata protagonista sempre una persona anziana. L'indagato, stando alla ricostruzione della polizia, avvalendosi della complicità di altri soggetti non ancora identificati, aveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per il nipote e inducendo la donna a consegnare ad un sedicente corriere soldi e gioielli per la considerevole cifra di 50.000 euro. L'incrocio delle dichiarazioni dell'anziana con le immagini estratte dai circuiti di viso sveglianza privati e comunali presenti nel percorso che la stessa aveva effettuato per recarsi in banca per elevare parte della somma, ha consentito di cristallizzare la consegna di una tranche al truffatore e di identificarlo. Presso la sua abitazione durante una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti gli stessi abiti indossati al momento del fatto. Le risultanze investigative acquisite in relazione ai fatti avvenuti a Castellammare nel novembre 2019 hanno permesso di ascrivere sempre ad RV un'altra truffa, verificatasi stavolta attore del Greco che aveva prodotto un danno di 5.000 euro alla malcapitata di turno. Gli agenti del commissariato di via Marconi, anche in questo caso grazie alla visione dei filmati estrapolati dai circuiti di viso sveglianza privati e comunali installati nel percorso effettuato dall'autore della truffa, hanno individuato un motociclo con targa straniera a bordo del quale il 41enne sarebbe giunto nella città vesuviana e sul quale l'indagato è stato fermato e riconosciuto come soggetto ripreso dalle telecamere. Le indagini si inseriscono nell'ambito della più ampia e articolata attività investigativa posta in essere dalle forze dell'ordine sotto il coordinamento della procura finalizzato ad arginare il crescente fenomeno delle truffe commesse ai danni di persone anziane.